Cosa si sta facendo a livello legislativo per prevenire la violenza di genere? Intanto abbiamo inasprito tutte le pene per tutti i reati legati alla violenza di genere, lo stalking e le violenze fisiche e altri tipi di violenze. Poi abbiamo previsto in legge di bilancio, la vecchia legge finanziaria, 20 milioni di euro in due anni per finanziare l'attività dei centri antiviolenza più altri stanziamenti per progetti specifici legati alla prevenzione della violenza di genere. Questa è una piaga che riguarda tutte le persone ma quello che dobbiamo soprattutto far passare è il concetto che la prevenzione si fa tutti i giorni comunicando, informando, sensibilizzando l'opinione pubblica che anche piccoli comportamenti possono diventare l'anticamera di episodi ben più gravi. La Regione sta cercando di dare piena attuazione alla legge 6 del 2014, quindi la legge per la parità e il contrasto alle discriminazioni. Proprio in questi giorni si sta concludendo l'istruttoria del primo bando che abbiamo emanato a sostegno degli enti locali e delle associazioni sul versante del supporto alle reti che tutelano le donne vittime di violenza, che le aiutano ad uscire dalla violenza e che sostengono le donne che invece sono a rischio di eventuale violenza. Inoltre una grande importanza si sta dando a tutti quei progetti che riguardano la prevenzione a partire dai più giovani, quindi percorsi di educazione all'affettività, educazione alla sessualità, alla gestione del conflitto. Stanzieremo a breve anche le risorse in arrivo dal nazionale per oltre un milione di euro destinati appunto ai centri antiviolenza.